amici sto per lanciare la provocazione l'Eurovision Song Contest nonostante l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina ha stabilito che la Russia possa essere rappresentata e partecipare alla competizione mi aspetto a questo punto il ritiro da parte di Mahmoud e Blanco e Achille Lauro incondizionato senza se e senza ma perché se partecipano a quella buffonata che ovviamente va contestata perché permettono alla Russia di partecipare non dovrebbero far partecipare la Russia io ve lo dico ragazzi o la Russia viene squalificata e allora possono partecipare ma se la Russia se le cose restano così perché è stato detto proprio oggi dagli organizzatori gli organizzatori hanno ribadito che la Russia può partecipare all'Eurovision Song Contest allora se questo è il dato di fatto sia Achille Lauro che Blanco e Mahmoud hanno il dovere il dovere di ritirarsi dalla competizione loro così come ogni altro ma loro per primi e su questo ragazzi non voglio discussioni apro il dibattito grazie a tutti grazie a tutti